Di lui un pentito aveva raccontato che subito dopo un omicidio per ricordo si era tenuto la pistola scivolata alla vittima. Ma Ferdinando Gallina, Freddi, è anche l'uomo che conosce molti segreti di Cosa Nostra Palermitana. Ad iniziare dagli affari di Salvatore Sandro Lopiccolo, i boss del mandamento San Lorenzo, di cui lui, ritenuto il reggente della famiglia mafiosa di Carini, era un fedelissimo. Freddi Gallina è atterrato oggi a Fiumicino, scortato dagli uomini del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Per riportarlo in Italia ci sono voluti oltre tre anni di trattative, condotte anche dal reparto operativo dei carabinieri di Palermo. Il 44enne latitante dal 2016 accusato di tre omicidi era stato fermato dall'FBI a New York sul finire dell'anno successivo. Era entrato negli Stati Uniti dal Canada, nascosto nel portabagagli di un'auto. Già arrestato nel 2008 dai carabinieri di Palermo durante l'operazione tsunami, una volta scarcerato era poi scappato violando la sorveglianza speciale. Gallina gestiva gli affari delle estorsioni e dei lavori pubblici. L'estradizione dagli Stati Uniti d'America, avvenuta oggi di Ferdinando Freddi Gallina, costituisce un grande risultato di cooperazione internazionale e dello sforzo investigativo della direzione distrattuale antimafia di Palermo e dei carabinieri. Freddi Gallina rischia ora l'ergastolo. L'uomo a conoscenza di tanti segreti sarà interrogato dagli inquirenti. Suo padre Salvatore fu implicato nel sequestro e nell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo.